Ciao a tutti, benvenuti in un altro mio video, questo è il consueto video degli acquisti naturali del mese come sempre in collaborazione con altri canali piccoli come il mio ovviamente aperto a tutti, quindi se qualcun altro si vuole iscrivere cioè iscrivere, se qualcun altro vuole partecipare è liberissimo di farlo e qua giù nell'info box trovate i canali di tutte le persone che partecipano a questa collaborazione tra l'altro io do un bacio a tutti, vi saluto e parto, parto con gli acquisti allora volevo farvi vedere intanto delle cose che non sono cosmetici, sono cibo allora intanto alla Lidl ho acquistato questi burger vegetali io non so se sono effettivamente naturali, cioè io gli ingredienti non li ho visti comunque vedo che è vegano, era nel lato quello naturale ecco io non sono bravissima a leggere gli ingredienti per quanto riguarda i cibi comunque era nel reparto naturale sono vegani e ho acquistato e finito questi qua con le verdure grigliate mi sembra costino tipo 1 euro e 50, una roba del genere e poi ho acquistato 1, 2, 3 e ce ne ho altri due in frigo con i semi di lino e zucca che ovviamente mi sono piaciuti di più anche questi erano buoni, però questi qua mi sono piaciuti di più la differenza tra quelli che avevo preso al Conad che è quello che ho acquistato spesso e che vi avevo fatto vedere nell'altro video che casomai vi lascio linkato la differenza è che in questi qua ci sono proprio i semi e i pezzi di verdura si sentono, quindi secondo me questi qua della Lidl sono più buoni perché sono un po' più saporiti in genere io li faccio in padella mi è capitato una volta di farlo al microonde comunque ci mettono anche poco a cuocere e sono molto buoni poi per quanto riguarda la linea verso natura che è la linea biologica del Conad ho acquistato di nuovo le uova fresche, queste qua biologiche le acquisto abbastanza spesso perché sono le uniche che trovo in confezione da 2 e quindi non faccio scadere le uova perché io 6 uova le finisco in 7 mesi e mezzo io non consumo tantissime uova quindi questo qua da 2 è perfetto per me perché essendo da sola riesco a finire la confezione senza far andare a male le uova e mi piacciono molto poi ho acquistato 3 cose per fare il porridge io in genere la mattina, allora è da quando ho 4 anni che io a colazione mangio caffè, latte e pandistelle e se non ho il caffè, latte e pandistelle la giornata non mi parte però stavo cercando di trovare una colazione un po' più sana perché mi rendo conto che non faccia bene soprattutto se come me si mangia una quantità di pandistelle alta quindi mi sono buttata sul porridge che è buono mi piace ma ma poi mi viene comunque la voglia dei pandistelle allora mi sazia tantissimo subito però poi io la sera prima di andare a letto mi faccio caffè, latte e pandistelle quindi il problema non è stato risolto però va bene ogni tanto mangio il porridge e poi ho dovuto per un periodo smettere questo mese perché mi sono tolta il dente del giudizio quindi prima avevo punti, adesso ho il buco dove c'era il dente che si deve ancora chiudere e questi semini insomma mi vanno ovunque quindi per un periodo non ho messo da parte il porridge comunque ho comprato i fiocchi di avena biologica questi qua sono 350 grammi mi dureranno tantissimo perché ne metto circa, ne utilizzo 16 grammi per fare colazione quindi insomma un po' mi durano poi ho acquistato i semini questi qua di lino sempre diverso natura e anche questi ovviamente biologici questi qua il resto li ho travasati in un vasettino di vetro perché volevo liberarmi della confezione ma in realtà non ci entravano tutti da 150 grammi e l'ultima cosa questi qua che sono sempre della stessa marca sempre biologici 150 grammi i semi di chia questi qua e io i semi di chia e i semi di lino li metto poi dopo che tolgo dal fuoco l'avena e il latte quindi niente questi qua credo che andrò a comprare anche i semi di zucca sempre di questo marchio da aggiungere al porridge però per ora così e poi ci sono dei cosmetici che però non ho acquistato io mi sono arrivati con una collaborazione in realtà io vi ho già fatto un video per quanto riguarda questi cosmetici però mi rendo conto che magari non a tutti interessa o non hanno visto il video insomma ve li faccio vedere velocemente qua il marchio è la dispensa varie linee florinda elidermina il delicato d'asine eccetera mi ha inviato questa crema corpo al fico di india nickel tested organic certificato IAB la profumazione è molto delicata ha una buona crema che si assorbe in fretta però è molto idratante e per adesso mi sta piacendo anche se questa l'ho utilizzata ancora poche volte poi sempre della stessa linea il siero questo qua viso rigenerante anti age anche questo certificato IAB e nickel tested mi piace molto è bello corposetto ma allo stesso tempo leggero non va ad ungere mi piace anche questo mi sta piacendo ma in realtà mi stanno piacendo tutti i prodotti devo dire di questo marchio poi crema viso nickel tested certificata IAB in barattolino di vetro e tappo di legno è una bella crema densa corposa perché se si rovescia il barattolo la crema non si muove nonostante questo non mi ha dato problemi di lucido alla pelle non me l'ho appesantita non me l'ho unta e io ho una pelle mista adesso che fa è arrivato veramente il caldo questa qua per il mio tipo di pelle è troppo quindi la vado ad applicare la sera senza mettere il siero e metto solo questo prima di andare a letto comunque un'ottima crema sicuramente io per quanto riguarda il mio tipo di pelle l'apprezzerei di più in inverno però la utilizzerò la sera e così ho risolto il problema poi della linea delicato d'asina invece mi è stato inviato questo qua che è il sapone liquido per mani corpo e viso questo qua stavo guardando che però non è certificato e non è nickel tested almeno non mi sembra in ogni caso ha comunque un buon inci mi sembra di vedere così a primo colpo d'occhio io sono arrivata qua era pieno quindi questo l'ho utilizzato un po' l'ho utilizzato sia per lavare le mani sia per lavare il viso mi è piaciuto in tutti e due modi non va a seccare nelle mani nel viso non brucia sugli occhi non va ad appesantire la pelle la profumazione è buonissima fa abbastanza schiuma e mi piace quindi ottimo poi il doccia shampoo idratante nutriente allora io non potrò utilizzarlo sui capelli perché adesso sto facendo una cura che mi ha dato il dermatologo quindi devo utilizzare alcuni prodotti e comunque se sgarro cioè se utilizzo un altro shampoo devo utilizzare qualcosa per capelli grassi quindi assolutamente non idratante nutriente però l'ho utilizzato per il corpo mi è piaciuto tantissimo perché veramente va ad idratare la pelle fa una bella schiuma utilizzando la spugna retina è molto delicato ma la va benissimo anche questo profumazione buonissima e mi è piaciuto questo è certificato IAB non è niche il test delmeno non c'è scritto non mi sembra comunque non contiene SLS SLS parabeni o i minerali palafine siliconi coloranti e PEG e niente così questo è certificato e ultimo prodotto lo stick labbra idratante ed emolliente sempre delicato d'asina questo certificato IAB buonissimo un buon prodotto è un po' durino non è di quei balsamo labbra super burrosi oleosi anzi è un buon compromesso perché è molto nutriente molto idratante ma non è appunto troppo unto appiccicoso non si va io lo applico soprattutto la sera prima di andare a letto la mattina io ho ancora il prodotto sulle labbra cioè se faccio questa cosa io sento che c'è ancora il burro cacao e non me lo ritrovo sul mento cosa che invece spesso accade le labbra le nutre a fondo e mi sta piacendo molto veramente tanto questo ve lo straconsiglio perché questo lo sto applicando mentre gli altri prodotti appunto lo utilizzo per la skin care mattina sera o quando faccio la doccia questo qua invece lo utilizzo più volte durante il giorno quindi questo ho avuto un po' più di tempo per testarlo e questo mi sta piacendo tantissimo quindi questi erano gli acquisti del mese non ho acquistato molto anche perché non è che io abbia tantissimi soldi da spendere in queste cose e poi perché sto cercando di limitare gli acquisti per quanto riguarda i cosmetici perché sono piena e non voglio far scadere le cose non voglio sprecare soldi e non mi va di accumulare troppi prodotti perché già ne ho tantissimi quindi sono un po' in una fase di smaltimento invece che di acquisti comunque spero che il video vi sia piaciuto lo stesso mi raccomando passate anche dagli altri canali io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao